E come detto andiamo a ritrovare gli antichi mestieri che poi antichi sono ma sono anche attuali, è il fornaio, il fornaio dell'epoca, vedete sono vestiti negli abiti caratteristici che si prova a vivere questa esperienza del Natale qui col presepe vivente. E' una cosa bellissima, aspettiamo tutti gli anni anche per stare insieme tutti quanti, è una cosa bellissima. E lei cos'è un pastore? No, sono i fornaio. Ah ecco che chiedo scusa. Lui fa le bruschette, io faccio i fornaio che cuocio. Facciamole vedere queste bruschette, anzi mi permetto di assaggiarne una, è davvero buona, appetitosa. E proseguiamo il nostro cammino, vediamo ancora altri prodotti tipici, le bruschette con i relativi condimenti. Qui abbiamo anche un altro figurante, porta il legname. Sì, boscaiolo. Boscaiolo. Sì, diciamo che è boscaiolo perché per trasparare la legna dai fuochi all'altro. Le fascine poi da... Sì, sì, più le fascine poi di più la legna, per fare il carbone e per arrostire.